Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia Siamo in compagnia di loro che vengono da Brescia Festeggiano il compleanno di un ragazzo Che si chiama Furia Allora Furia, detto Daniele, è nato di là, ormai è nato di là Compie 29 anni e viene da Brescia Allora ragazzi, siete pronti a cantare Viva un morto X? Pronti? Vai! Pronti? Qua ci sono le parole ragazzi? Gatto rudo Gatto rudo Tutto qui, non c'è confusione Nessuno che ti ha chiesto se volevi, se volevi Se ti da, da E a regolare prima o poi c'è la di là Stare, non toccare, guardare, d'ingoiare Quanti clienti mi farà perdere questa cosa qua? Auguri, 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 auguri L'altro professore, con la sua videocrità, con il palco a te, con il tuo cuore, sì signore, mi non giuramente un anno, ci sono tu più cani. Vivo un porto e, vivo un porto e, vivo un porto, vivo un porto, vivo un porto e, siamo sempre qui, come tutti i miei, vivo un porto, vivo un porto e, vivo un porto e, vivo un porto e, vivo un porto e. Hey, come on, come on, come on! Everybody! Una come te, 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 posto della cesa, la caneta in canadà, ha fatto la spesa, una come te, non la può scordare, una come te. Cittadini, insieme a noi, Dani! Mi amo Dani! Una di noi, le fiste viene! A la farsa di, che io ho visto! Quante cose, amo! Paro, vai, un pianista! Vai ragazzi! A la farsa di, che io ho visto! Daniele, ti amiamo! Daniele! Tanti auguri! Tanti auguri, Dani, vai! Vai! Ancora! Sicur, sicur! Bravi ragazzi e auguri, Daniele ha detto, furia! Oh!